Buongiorno Friuli e buon giovedì, giovedì 23 agosto. Noi siamo pronti con i nostri quotidiani di oggi per iniziare questa nostra rassegna stampa. Prima però come sempre un flash sulle previsioni del tempo e anche una bella immagine che oggi ci arriva da Cividale del Friuli. Vediamo il natisone in primo piano in questa bella immagine. A Cividale in questo momento ci sono 22 gradi e due decimi, a Udine 21 gradi e 4, a Cervignano 18 gradi e 9 decimi, 24 gradi e 9 a grado. Sulla costa a Trieste la temperatura in questo momento è di 27 gradi e 4 decimi, andando in montagna 18 gradi e 3 a Tolmezzo, 12 gradi e 2 decimi a Tarvisio. Sul Monte Lussari la temperatura sale di qualche grado, scusate, 14 e 4, 20 gradi e 6 decimi a Pordenone. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, con caldo un po' più afoso dei giorni precedenti, anche di notte. Sulla zona montana, sereno al mattino, poco nuvoloso localmente variabile di pomeriggio, con possibili locali temporali che successivamente potrebbero interessare anche pianura e costa. Venti a regime di brezza e temperature massime che oggi raggiungeranno i 32-35 gradi in pianura. Per domani, lo vediamo anche dalla cartina, in arrivo un peggioramento. Poi nelle prossime edizioni dei nostri Tg vedremo anche tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il meteo nel fine settimana. Uno sguardo anche alla viabilità, andiamo sul sito infotraffico di Autovie Venete, vediamo qual è la situazione. In tempo reale, al momento fortunatamente non si segnalano code, rallentamenti o situazioni di particolare criticità. Ecco la pagina Info Viaggiando, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E ora siamo pronti per la nostra rassegna stampa. Cominciamo subito a sfogliare le pagine dei quotidiani di oggi, le prime pagine innanzitutto con il Corriere della Sera. In primo piano c'è ancora la questione della nave 18 bloccata in porto, ma il Ministro dell'Interno non ha dato l'autorizzazione allo sbarco dei 177 migranti a bordo, via libera per lo sbarco solo ai minori. Questo sta creando non poche polemiche. Migranti Lite, Salvini, Fico sulla nave 18 bloccati in 177, inchiesta per sequestro di persona. Il procuratore di Agrigento dice che sono salito a bordo, situazione disperata e c'è il pressing del Quirinale. Nella serata di ieri sono stati fatti scendere solo 29 minori. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invita l'Unione Europea a battere un colpo e c'è appunto il pressing del Quirinale. Andiamo negli Stati Uniti adesso con questa fotonotizia che riguarda il Presidente Donald Trump. L'ex legale di Trump dice dirò tutto, coe nei pagamenti alle Pornostar. Con il martedì nero è cominciato un assedio legale a Donald Trump. Il Presidente ormai è apertamente accusato di aver commesso crimini di rilevanza penale in campo elettorale. È la prima volta che accade dai tempi del Watergate, ma la legge americana vieta l'incriminazione di un Presidente da parte della magistratura. Il suo ex legale, Michael Cohen, è pronto a vuotare il sacco davanti al procuratore. Ancora la questione legata al crollo del Ponte Morandi a Genova, sequestrati PC e telefoni ai vertici di autostrade. E poi la società autostrade attacca, valutiamo effetti delle esternazioni, le esternazioni dei rappresentanti del governo su una revoca della concessione autostradale. Valuteremo gli effetti delle esternazioni, soprattutto per quanto riguarda il crollo del valore delle azioni di autostrade in borsa a tutela, ha detto la stessa società, degli azionisti di autostrade. Dal Corriere della Sera andiamo adesso sulla prima pagina di Repubblica e vediamo che anche qui in primo piano abbiamo le stesse notizie. Quindi in apertura Salvini sfida Conte sui migranti, decido io. Ha minacciato la crisi, Diciotti sbarcati i minori e il PM valuta l'accusa di sequestro di persona. Scontro istituzionale e politico sul caso della nave Diciotti. La foto di Donald Trump, la condanna di Cohen, il pericolo Russia Gate, anche sulla prima pagina di Repubblica. Il giorno più buio di Trump, scrive Repubblica, ora l'impeachment è possibile. E poi per quanto riguarda l'inchiesta sul crollo del ponte di Genova, avvisi di garanzia pronti per la strage del ponte, dirigenti di autostrade e ministero nel Mirino. Per quanto riguarda il caso della nave Diciotti, il manifesto oggi apre con questo titolo Sequestrati, trattenimento illecito. La procura di Agrigento valuta l'ipotesi di sequestro di persona dopo le pressioni. Il Viminale fa scendere i minori dalla nave ma è scontro con il presidente della Camera FICO che chiede lo sbarco di tutti i 177 migranti a bordo. La replica di Salvini, processatemi il ministro, sono io. Dal manifesto andiamo anche sulla prima del giornale che titola Vogliono arrestare Salvini, emergenza immigrazione, caos di Ciotti, la procura apre un'indagine per sequestro di persona e il ministro rilancia, mi processino pure e fa sbarcare i bambini. Il compagno FICO spacca il governo e dice appunto scendano tutti. Ancora andiamo anche sulla prima pagina di Libero, ecco il titolo dell'edizione di oggi di Libero, può salvarci solo Trump, scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri Aria di attacco all'Italia, tutti si aspettano la speculazione su borsa e titoli di Stato L'Unione Europea e i draghi non muoveranno un dito per noi, ci serve la protezione di un alleato forte piuttosto che chiamare Putin o i cinesi, è meglio affidarsi all'America. Libero parla di un attacco che arriverà in autunno contro l'Italia, come ha spiegato ieri il ministro per gli affari europei Paolo Savona, un attacco più politico che finanziario. E poi vediamo una foto di Mauro Corona, centropagina, lo scrittore Corona alpinista che sta sempre in tv ha detto non venitemi a rompere le scatole in montagna. Chiudiamo anche la prima pagina di Libero, andiamo a vedere adesso la prima pagina della verità che apre con questo titolo in Atlantia, la società che controlla anche Autostrade per l'Italia hanno giocato in borsa sulla strage del ponte di Genova. Il 16 agosto un consigliere e la moglie comprano azioni per 238 mila euro, in poche ore ne guadagliano 20 mila. La società minaccia il governo e dice appunto valutiamo le estenazioni del governo proprio per quanto riguarda una revoca della concessione Autostrade. Chiudiamo anche la verità e vediamo adesso la prima pagina del Sole 24 Ore. Anche qui in apertura vediamo proprio le parole di Atlantia in primo piano, Atlantia contraattacca e pesa l'addio a Autostrade. CdA in campo a tutela degli azionisti, valutiamo l'effetto delle esternazioni. All'esame della società l'impatto della revoca, Faro Mudis sul rating, l'ingresso in CDP divide il governo nel mirino dei PM i lavori dal 1923. Il consiglio di amministrazione di Atlanti ha avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla società avendo riguardo al suo status di società quotata con l'obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori. Lo ha reso noto ieri la stessa società al termine del consiglio di amministrazione che ha espresso pieno supporto al piano di Autostrade per l'Italia, per Genova e le famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi. Atlantia sta inoltre valutando, dopo le polemiche sulla possibile nazionalizzazione, l'impatto di una possibile uscita dal business delle autostrade in Italia. Intanto Moody's mette sotto revisione per downgrade il rating di Atlantia che ieri in borsa ha perso un altro 3,8%. Si intensificano intanto le polemiche circa un possibile ingresso di cassa depositi e prestiti nel capitale di Autostrade. Alla cautela del Movimento 5 Stelle si contrappone una lega possibilista. Sul fronte dell'inchiesta poi i PM hanno messo nel mirino i lavori effettuati sul Ponte Morandi a partire dal 1993. E' questa la notizia in primo piano sul Sole 24 Ore che poi parla anche delle nuove regole per quanto riguarda i migranti. Nelle pagine interne tutti i particolari. Chiudiamo il Sole 24 Ore, andiamo velocemente anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport per avere un quotidiano sportivo anche in questa prima parte di Rassegna. C'è Cristiano Ronaldo in apertura. Ecco qua il titolo. CR7, Juve, prendiamoci tutto. Voglio vincere Champions, Scudetto e Coppa Italia. Intanto punta alla manita di premi individuali. Torneremo su questa e sulle altre notizie sportive nel corso della seconda parte del nostro Buongiorno Friuli. Adesso spostiamoci subito sui quotidiani locali. Andiamo su Messaggero Veneto, piccolo e gazzettino. Il Messaggero Veneto di oggi, questa redizione di Udine, il titolo di apertura. Rotta balcanica, la frontiera italo-slovena è un colabrodo. I profughi arrivano da Serbia e Montenegro. Almeno 40 valichi non sono controllati. E vediamo appunto nelle primissime pagine del Messaggero Veneto gli articoli che fanno il punto sulla situazione migranti in Friuli Venezia Giulia ma anche sulla rotta balcanica. Torna la rotta balcanica e nessuno controlla decine di valichi in Friuli Venezia Giulia. Impossibile presidiare gli oltre 40 transiti con la Slovenia a Trieste e nel Lisontino. Nuovi flussi nell'ex Jugoslavia. Ormai i migranti passano per Bosnia e Montenegro. E vediamo appunto anche qui la grafica con le rotte dei migranti attraverso i Balcani. E poi nella pagina accanto abbiamo un altro articolo firmato da Fabrizio Anzolini che è a capo della sezione migranti della Croce Rossa del Nord Italia che dice che Udine può uscire dall'emergenza, basta copiare il modello Gorizia. In quel territorio è stato dimostrato che si può velocizzare l'iter di rimpatrio dei dublinanti ovvero i migranti che hanno presentato già una richiesta d'asilo in altri paesi dell'Unione Europea. Le richieste di protezione internazionale vanno rese più omogenee nelle quattro province. E poi vediamo tutto l'articolo che ci racconta la situazione. Torniamo in prima pagina adesso e andiamo a vedere la fotonotizia che troviamo a centro pagina e che ci porta a parlare invece della febbre del Nilo. Scatta la disinfestazione a Paderno. La gente a Paderno si chiude in casa. Un nebulizzatore a gasolio montato su un pick-up che ha sparso per oltre due ore centinaia di litri di insetticida a Paderno con l'obiettivo di eliminare i focolai delle larve della zanzara comune, quella che trasmette il virus West Nile. L'intervento è scattato ieri sera alle 19.00. ed è proprio questa la notizia che apre le pagine locali del messaggero Veneto. Ecco, ancora la doppia pagina con tante foto. E poi l'articolo. Virus del Nilo a Paderno scatta la disinfestazione. La gente si chiude in casa per quattro ore in un raggio di 200 metri da via Torino spruzzato l'insetticida. Saracinesca è abbassata in anticipo, cittadini infastiditi non ci hanno avvisato, dicono i residenti in zona. E poi vediamo nella pagina accanto una polemica cittadina per quanto riguarda gli interventi per la disinfestazione per le zanzare che non sono stati fatti a Udine. Interventi tardivi, monta la polemica tra PD e Comune, la consigliera del Torriattacca, i soldi c'erano, l'assessore Olivotto replica problema ereditato. Ancora, torniamo sulla prima pagina del messaggero Veneto, rimaniamo sulla cronaca e andiamo a leggere di spalla la notizia del cacciatore che ha perso la vita ieri durante un incidente in montagna. È precipitato per una trentina di metri mentre camminava in montagna durante una battuta di caccia. E nelle pagine interne, anche qui tutto l'articolo. Il cacciatore scivola e muore dopo un volo di 30 metri. La vittima è Gino Marmai, 66 anni, di Villa Santina, caduto sul sentiero per Fleons e è accaduto durante una battuta in montagna in compagnia di un amico. E poi ancora richiamato in prima pagina, sempre di spalla, un altro articolo che ci riferisce di questo incidente avvenuto ieri in Via Gorghi, un incidente che ha visto protagonista un cane, cane schiacciato. Si cerca l'automobilista, le immagini delle telecamere, un uomo sconosciuto come l'investitore soccorre l'animale e lo porta via in braccio. Alcuni bancari avevano chiamato la polizia allarmati da una chiazza di sangue che avevano notato nella mattinata di ieri in Via Gorghi. E poi ancora sempre un altro articolo richiamato sulla prima pagina del Messaggero Veneto ci porta a Cividale dove i residenti temono per la tenuta di un ponte, il ponte sul rio Lesa. Passano troppi camion, il ponte sul rio Lesa preoccupa i residenti, il traffico pesante si è intensificato, si teme per la sua tenuta. La consigliera Chiabai dice, ci dicano se hanno fatto delle verifiche. L'onda emotiva sollevata dal crollo del ponte Moranti a Genova innesca una nuova minaccia sulle territorio cividalese dopo l'allarme lanciato da un inquilino per le condizioni di staticità delle palazzine demaniali di Grupignano in amplissima percentuale ormai disabitate. Ne parte un altro dalla zona compresa fra le frazioni di Carraria e Purgessimo. e nel mirino stavolta c'è proprio un ponte, o meglio un ponticello, quello che attraversa il rio Lesa e che vediamo appunto in questa foto. Ancora torniamo in prima pagina e andiamo a dare un'occhiata anche agli altri titoli. vediamo sempre di spalla una truffa una truffa ai danni di una signora anziana sono un avvocato ma è un ladro e porta via tutto a un'anziana prima di presentarsi alla porta telefonano e usano sempre i soliti trucchi si spacciano per avvocati. Andando a Tavagnacco via il progetto per una nuova rotatoria a Colugna e ancora nelle pagine dedicate all'economia un intervento della CGL, del segretario generale Pezzetta contro Confindustria il tema è il decreto dignità il decreto dignità è ok dice William Pezzetta che lancia un semi assist al governo giallo-verde un'alta a Confindustria non ci sta il segretario generale di CGL al gioco dei numeri sugli effetti devastanti che il decreto dignità di recente convertito in legge dovrebbe avere sul mercato del lavoro basta allarmismi, dice Pezzetta la crescita o il rallentamento dell'occupazione non dipenderanno dal decreto e poi tornando alla cronaca il caso del cacciatore di Bufale vittima a sua volta di una fake news di una notizia falsa l'udinese David Puente i pirati informatici hanno pubblicato nella giornata di martedì su Twitter la notizia che il friulano era stato arrestato per atti osceni in un parco tutto falso dice il diretto interessato che attacca e dice non mi fermeranno con questi mezzucci da cacciatore di bufale a vittima di una fake news ritorsione contro l'udinese David Puente questa era l'edizione udinese del Messaggero Veneto andiamo adesso nella destra tagliamento e andiamo a vedere le notizie in primo piano nel Pordenonese anche qui vediamo a centro pagina gli interventi contro le zanzare virus del Nilo prosegue la disinfestazione antizanzare in varie zone di Pordenone dopo via Buozzi e tocca parco 4 novembre al centro sportivo Lupieri a Villanova per la festa in piazza che comincia stasera via libera alla disinfestazione mirata delle zanzare per prevenire la trasmissione di virus da parte degli insetti andando nelle pagine interne invece vediamo che c'è la sanità in primo piano con la mancanza di chirurghi della mano una delle eccellenze dell'ospedale di Pordenone mancano chirurghi della mano garantite le urgenze visite sospese è il centro di riferimento regionale però gli specialisti se ne vanno concorso per sostituire due medici il primario dice stiamo evadendo interventi delle 2017 pazienti anche dal Veneto e ancora sempre per quanto riguarda la cronaca vediamo un'altra notizia di cronaca nera che ci arriva dalla destra tagliamento a Sacile muore travolta da un'auto in viale Lacchin Nivesgava a 91 anni vestita ieri mattina mentre attraversava fuori dalle strisce il decesso poche ore dopo in ospedale chiudiamo il messaggero Veneto adesso e andiamo sulle pagine del gazzettino il gazzettino del Friuli questa è la prima pagina dell'edizione nazionale noi andiamo subito sulle pagine interne sulla prima pagina del fascicolo del Friuli e vediamo l'apertura del gazzettino di oggi allarme infortuni stretta sui controlli la regione varerà domani in giunta il piano promesso numeri raggelanti dice l'assessore Alessia Rosolenne avevamo il dovere di intervenire formazione potenziata più verifiche nei cantieri ma anche misure di reinserimento previsti nuovi fondi la questione migranti anche sul gazzettino in primo piano il gazzettino titola anche la commissione è migrante la commissione che si occupa del riconoscimento della protezione internazionale è in cerca di una casa come i profughi che esamina l'organo è ancora in cerca di una sede a Trieste il virus del Nilo scatta la disinfestazione a Udine e poi fronte di scontro nuova provincia con la carne al centro Pordenone in allarme i pordenonesi si preoccupano per l'ipotesi di costituzione di un'unica grande area montana regionale con capoluogo Tolmezzo di spalla la politica il riscatto del PD la sfida parte dai paesi altro che il nome del partito il PD del Friuli Venezia Giulia che oggi con la commissione dedicata metterà a punto le prime tappe di settembre della fase congressuale a ben altra sfida davanti riuscire ad affrontare efficacemente le elezioni in 140 comuni nella primavera 2019 e competere territorialmente per le europee del prossimo anno il presidente della regione Fedriga al meeting di Rimini dice piano di sistema per le specialità la richiesta dell'Italia risiede nella ricchezza scusate dell'Italia risiede nelle diversità da valorizzare e per riuscirci le specialità amministrative vanno esaltate in quanto garanzia di una maggiore e migliore rapporto con il cittadino per quanto riguarda la cronaca anche sul gazzettino vediamo il dramma del cacciatore di 67 anni di Villa Santina ritrovato morto nella zona di caccia dove stava operando a Fleons lo sport Udinese Velazquez prova le due punte Udinese si cambia Velazquez cambia modulo probabilmente si sediamo retta all'esercitazione tecnico-tattica di ieri in cui ha provato il 4-4-2 quel piano di battaglia che ha attuato domenica sera a Parma quando i bianconeri erano venuti a trovarsi in svantaggio di due reti e che si è rivelato la chiave di volta per riportare in auge l'Udinese tra poco approfondiremo bene anche questo articolo adesso ancora qualche titolo sulla prima del gazzettino del Friuli per quanto riguarda le infrastrutture vediamo oltre 140 ettari di territorio liberati dai vecchi tralicci più di 140 ettari di terra sono stati liberati appunto dai tralicci dell'energia fra le province di Udine e Pordenone vecchi elettrodotti demoliti dopo la costruzione anche del nuovo elettrodotto autostrade nuove concessioni il piano è pronto entro agosto il dossier per l'Unione Europea e poi a San Martino al tagliamento tre giorni fra arte e cultura anche in questo caso poi abbiamo tutti gli approfondimenti nelle pagine interne con l'aiuto della regia di Francesco Zilli andiamo adesso a vedere anche le prime pagine del piccolo ecco il piccolo di Trieste auto e scooter nel mirino di esatto questo il titolo di apertura rischio fermo amministrativo per i mezzi di 2000 triestini che non hanno pagato asili e rifiuti andando andando a centro pagina vediamo la testimonianza di Federico sopravvissuto al crollo di Genova ora il sorriso di Federico consola Trieste grazie mille a tutti per il sostegno dalla prima pagina del piccolo di Trieste andiamo sulla prima pagina del piccolo di Gorizia vediamo che in apertura in questo caso c'è il tema stranieri fronte unico dei parroci solidarietà unanime a donne sinue critico col gentrodestra sul caso alloggi Ater gelo di Ziberna questo il titolo di apertura del piccolo di Gorizia con il quale chiudiamo questa prima parte del nostro buongiorno Friuli adesso c'è come sempre un po' di pubblicità e poi saremo di nuovo assieme per proseguire questa nostra rassegna stampa con le notizie sportive ci rivediamo tra poco